Eccezioni di Dabiskiba sulla testa di Zimmerman, Mahara in diagonale stretta, prova il barco giusto. Brizard per Recine, il muro di Dabiskiba, la rigiocata di Monza con la 5 di Mahara, 17-16. Poi Zimmerman per Mahara, tutto braccio, il muro di difesa di Brizard, Scamferna in bagger per Romano, il murone invadente di Stephen Mahara. Giovedi giocatori, volete imparare come se fa un muro, guardate l'invadenza di Mahara in questa struttura. Il nastro da terra, Federici, Zimmerman, palla dietro per la 5 di Mahara, bacio alla linea laterale. La 5 di Mahara, 17-12. L'azione di Federici, palla molto vicina a rete, salta altissimo Mahara, 20-14. Lontanissimo dai 3 metri, Brizard per base, il murone di Mahara, 24-15. Lontanissimo dai 3 metri, Brizard per la 5 di Mahara, 24-15. Lontanissimo dai 3 metri, Brizard per la 5 di Mahara, 24-15.